Mamma, ricordo la prima volta che mi hai portato alla scuola di danza. Molto presto è diventata la mia vita e proprio allora sei andata via. È stata dura, ma non ho mai smesso di crederci. Mi hai insegnato tu a non mollare mai. Ma forse è stato tutto inutile. Sarà molto più complicato. Se dovessimo operare ci vorrà una lunga sosta dall'attività agonistica. Che significa? Vuol dire almeno uno, forse anche due anni. Due anni? Se basi la tua professione sul tuo corpo, sei obbligata ad avere almeno due vite. Quindi smetterai per sempre di ballare. Non ho altra scelta. Quando cambi strada cambiano anche i tuoi sogni. Devi crederci. Non puoi arrenderti. Il gusto mi fa pensare alla musica. Ma è così. Vedi, ho un piccolo problema, credo, con te e con la cultura. Papà, ti faccio presente che io lavoro nella cultura? Va bene. Cara mamma, qualche giorno prima che andassi via mi hai detto goditi tutte le vite che la vita può offrirti. Non sai ancora se potrai ballare di nuovo, vero? Oggi inizia la mia nuova vita.